Benvenuti in questo video su nuova Renault Zoe. Scoprirete tutte le novità di quest'auto elettrica, accessibile a tutti e di facile utilizzo. Partiamo! La storia di nuova Zoe inizia con uno sguardo. Uno sguardo nuovo e convinto per questa citycar, punto di riferimento nel mondo delle auto elettriche. Nuova Zoe adotta una firma luminosa a forma DC, la famosa C-Chip, elegante ed efficiente. Fari full LED che illuminano lontano, a basso consumo e a lunga durata. L'auto presenta un design moderno e innovativo con la nuova parte anteriore, il cofano scolpito dal nuovo design e i suoi inserti cromati. La losanga Renault, posta al centro della mascherina, nasconde lo sportello di ricarica del veicolo in maniera discreta ed elegante. Nove tinte disponibili per offrire ancora più scelta, di cui tre nuovi colori, blu celadon, bianco quarzo e rosso passion. L'evoluzione del design è visibile anche di profilo. Le forme leggere, ispirate alla generazione precedente, si combinano a linee dal carattere nettamente più deciso. Ammirate il risultato. Infine, diamo un'occhiata alla parte posteriore di questa nuova Zoe. I fari posteriori sono anch'essi full LED. La loro luce, a fasci orizzontali, diventa rossa per ottenere una visibilità ancora maggiore. Un'alleanza tra eleganza e sicurezza. Nuova Zoe resta un'auto elettrica compatta. Pratica da parcheggiare in città o per passare tra i vicoli più stretti. Compatta all'esterno ma spaziosa all'interno. E sì, l'auto è sufficientemente spaziosa per far accomodare 5 passeggeri a bordo con tutti i loro bagagli. Nuova Renault Zoe è un'auto elettrica con un ampio bagagliaio. Con una capacità di 338 litri è pronta ad accompagnarvi durante i fine settimana, nel tempo libero, in vacanza, nei vostri tragitti quotidiani con tutto quello di cui avete bisogno. Da notare il doppio fondo che vi permette di organizzare al meglio il bagagliaio e di riporre il cavo di ricarica dell'auto. E quando avrete bisogno di maggiore spazio, nuova Renault Zoe può passare, una volta reclinati i sedili, da 338 litri a 1225 litri. Una vera e propria piccola citycar al vostro servizio. Tutto invita a salire a bordo e a impugnare il volante di questa nuova Zoe. È sufficiente avvicinarsi alla vettura con la car Renault in tasca e l'auto emetterà una sequenza luminosa. aprirà gli specchietti retrovisori e sbloccherà l'apertura delle porte. Un benvenuto davvero speciale. Per bloccare le porte è sufficiente partire. Una volta a bordo, l'abitacolo è moderno, ma anche accogliente, tecnologico e confortevole. I materiali e le finiture di qualità rendono l'interno di nuova Zoe davvero piacevole alla vista, ma anche al tatto. Il computer di bordo, interamente ridisegnato, presenta un nuovo rivestimento leggero, versatile e di qualità. I sedili sono ricoperti di tessuto riciclato. La disposizione interna, la scelta dei materiali e l'integrazione dei vari schermi creano un'atmosfera calorosa e confortevole. Dietro al volante, lo schermo a colori da 10 pollici ad alta definizione è molto luminoso e personalizzabile. È possibile personalizzarne la luminosità, far apparire le indicazioni GPS e molto altre. Sopra la console centrale, un altro schermo da 9,3 pollici offre un ottimo comfort di lettura e di utilizzo, dandovi un facile accesso a tutto un mondo di servizi e di utili applicazioni. Il sistema è molto intuitivo, con un'ergonomia simile a quella del vostro smartphone. La nuova leva del cambio eShifter, bella e tecnologica, si trova sotto la console centrale. Con un semplice tocco è possibile passare da una modalità di guida a un'altra. Il freno a mano è anch'esso elettrico e diventa automatico. Il freno si aziona quando l'auto si arresta, senza bisogno di pensarci. Oltre all'estrema praticità, questo nuovo sistema permette di ottenere spazio per oltre 25 litri nell'abitacolo, utile per riporre tutti i vostri oggetti quotidiani. È previsto uno spazio per ricaricare il vostro smartphone in modalità wireless. Pratico, vero? A bordo sono inoltre disponibili delle prese USB, due nella parte anteriore e due nell'area posteriore per i tre passeggeri, i quali hanno veramente tanto spazio. I più alti apprezzeranno lo spazio per le gambe. E per i più piccini possono essere montati fino a due seggiolini per bambini grazie al sistema di fissaggio Isofix. Tutto per viaggiare con la famiglia in tranquillità e sicurezza. Una volta che tutti sono ben sistemati, basta premere un pulsante per partire. Nuova Zoe è un'auto connessa. Il sistema multimediale e i relativi servizi sono a portata di mano grazie al grande touchscreen. L'intera interfaccia è stata semplificata. L'utilizzo è intuitivo e lo schermo molto reattivo. Grazie alla connessione dati 4G inclusa, potrete godere dei molteplici servizi di bordo. Il TomTom vi terrà aggiornati sulle condizioni del traffico stradale e delle zone pericolose. Potrete inoltre consultare il meteo o anche localizzare le colonnine di ricarica disponibili lungo il percorso. E avete accesso alla ricerca indirizzi di Google. Questa funzione vi permette di trovare un posto senza conoscerne l'indirizzo esatto. Sarà sufficiente inserire qualche parola chiave e il gioco è fatto. Semplice ed efficace. Il sistema Renault EasyLink permette di connettere il vostro smartphone Android o Apple per accedere ai vostri contatti, ricevere e fare telefonate con facilità e approfittare, mediante Apple Careplay o Android Auto, delle numerose applicazioni come Waze, Deezer, Spotify, per passare in loop le vostre canzoni preferite. E a bordo di Nuova Zoe, la musica è a pieno ritmo. Grazie al Bose Sound System, i suoi sei altoparlanti e al subwoofer, approfitterete di un'esperienza musicale premium. Con Nuova Renault Zoe, l'esperienza di connessione si estende anche all'esterno del veicolo. Grazie all'applicazione My Renault sullo smartphone, potrete interagire a distanza con l'auto. Conoscere il livello di autonomia, programmare la carica o consultare il tempo di carica residuo non è mai stato così facile. Potrete anche organizzare il vostro itinerario con un solo clic. L'applicazione vi proporrà automaticamente delle colonnine di carica sul percorso. Una volta confermato, potrete trasmettere la destinazione direttamente all'auto, la quale mostrerà il percorso sul GPS, rapido ed efficace. Ciliegina sulla torta, l'applicazione è in grado di guidarvi fino alla vostra Nuova Zoe. My Renault localizza l'auto, vi guida fino a lei e, una volta a bordo, subentra il GPS per condurvi a destinazione. In breve, guidare con un'auto elettrica non è mai stato così facile. Guidare un'auto elettrica è semplice e divertente e questa nuova Renault Zoe saprà farvi sorridere. Prima differenza rispetto a un veicolo con motore a combustione, il silenzio. Ascoltate il silenzio a l'urdo. L'insonorizzazione è stata migliorata nell'abitacolo per filtrare meglio i rumori esterni e le vibrazioni. Godetevi la strada in piena sicurezza. Altra differenza rispetto a un veicolo con motore a combustione, la viva città. Nuova Zoe è dotata di un motore di nuova concezione che offre maggior dinamismo. Sviluppa 100 kW, una potenza equivalente a 136 CV. Risultati? Accelerazioni rapide alla partenza e riprese più sostenute per una guida più piacevole. Sorprenderete più di una persona al semaforo rosso. Per un maggiore comfort, il conducente può scegliere tra due modalità di guida tramite la leva del cambio e-shifter. La modalità D o D-Mode per una guida automatica con recupero di energia normale una volta sollevato il piede dall'acceleratore. E la modalità B o B-Mode che vi permette praticamente di non toccare più il pedale del freno. Rilasciando l'acceleratore, l'auto rallenta notevolmente. Avete quindi meno bisogno di utilizzare il pedale del freno. Questo tipo di guida a un pedale è molto pratica in città, sulle strade, in discesa o negli ingorghi. Infine, un'auto elettrica si distingue da un'auto con motore a combustione proprio sulla strada. In effetti Nuova Zoe è un'auto a emissioni zero. Da qui il suo nome. Questo significa che l'auto in marcia non emette agenti inquinanti o CO2 salvaguardando la qualità dell'aria. Silenziosità, grande autonomia, qualità su strada, dotazioni tecnologiche e comfort sono tutti elementi che invitano a mettersi in viaggio con una guida in tutta sicurezza e elettrica. Guidare un'auto elettrica è semplice e molto sicuro. Nuova Zoe offre un eccellente livello di sicurezza per voi e gli altri. Il sensore angolo morto, il riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema di frenata automatica d'emergenza, l'avviso di superamento della linea di corsia, il sistema di assistenza al mantenimento della corsia, l'elenco dei dispositivi di sicurezza è lungo. Obiettivo? Viaggiare in piena serenità a bordo di nuova Zoe. Numerosi dispositivi di assistenza alla guida vi semplificheranno la vita quotidiana. Il freno a mano automatico vi evita di doverlo tirare prima di lasciare l'auto o in caso di partenza in salita. Pratico! Un'altra utile funzione. L'auto cambia automaticamente dai fari abbaglianti a quelli anabbaglianti quando intercetta un altro veicolo che procede in senso contrario. E parcheggiare diventa anch'esso un gioco da ragazzi, grazie al sistema Easy Park Assist. Questo sistema gestisce tutte le manovre che sono necessarie per la sosta, parcheggi paralleli, perpendicolari o a spina di pesce. Niente è mai stato più facile. Nuova Zoe pensa a tutto per offrirvi una guida più serena. Ricaricare un'auto elettrica è semplice quanto guidarla. È alla portata di tutti. Nessun rischio di sbagliarsi. Aprite lo sportello, prendete il cavo e voilà! La fase di carica si attiva automaticamente e i led luminosi permettono di verificare lo stato di carica della batteria. L'applicazione MyRenaut vi permette inoltre di gestire a distanza la carica della vostra auto. È possibile programmare la ricarica o consultare il tempo di ricarica residuo dallo smartphone. Il tempo di ricarica varia a seconda della colonnina di ricarica. Questo succede a tutte le auto elettriche. Ma nuova Zoe ha un vantaggio in più. Il caricatore Cameleon. È la sola a disporre di questo nuovo caricatore che permette di caricare alla potenza massima da tutti i tipi di colonnine di ricarica. Risultato, caricate più in fretta. Grazie all'applicazione MyRenaut, ora è più facile trovare l'ubicazione delle colonnine di ricarica. Con un numero sempre maggiore di colonnine disponibili in tutta Europa, potrete ricaricare in città, in ufficio, al supermercato o in autostrada, facilmente e rapidamente. Ad esempio, presso un'area di sosta sull'autostrada dotata di colonnina di ricarica rapida, potrete recuperare fino a 150 km di autonomia in soli 30 minuti. L'altro vantaggio di Nuova Zoe è la ricarica a domicilio. Grazie a una Wallbox potrete ricaricare completamente la vostra auto elettrica in una notte, senza bisogno di fare code alla stazione di servizio. Nuova Zoe vi permette di viaggiare più lontano. La nuova batteria ZE50 vi permette di percorrere fino a 395 km con una sola carica. Una sola carica, quindi, vi sarà sufficiente per le necessità di una settimana. Altro vantaggio di Zoe è la sua affidabilità. Renault ha monitorato per vari anni l'affidabilità delle batterie. Tutti i 600 componenti della batteria sono riparabili e i tecnici Renault sono stati formati per provvedere alla manutenzione e alla riparazione delle auto elettriche. Non vi resta che godervi il viaggio. Buone notizie per voi. Renault Zoe ha il miglior rapporto prezzo-autonomia attualmente sul mercato. In altre parole, Nuova Zoe offre una maggiore autonomia rispetto alla maggior parte delle auto elettriche. Alcuni veicoli di categoria superiore possono offrire una maggiore autonomia, ma il prezzo sale notevolmente. Nuova Zoe, invece, è un'auto più accessibile e vi offre numerose soluzioni di finanziamento. Vi invitiamo a configurarla sul nostro sito internet per conoscere il prezzo finale della vostra Zoe. Inoltre, l'usato di un'auto elettrica si svaluta meno rispetto a un'auto con motore a combustione della medesima categoria. Ed è questa la ragione per cui numerose aziende scelgono le auto elettriche. E quindi, perché non voi? Grazie per aver seguito questo video. Speriamo di aver risposto a tutte le vostre domande su Nuova Zoe. Se avete apprezzato il video, cliccate su Mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Per maggiori informazioni potete consultare anche il nostro sito internet o contattare il concessionario più vicino a voi per provare Nuova Renault Zoe. Grazie ancora e a presto!